Un libro sentimentale, robustamente psicologico, dove mio interesse principale era quello di indagare un tema che mi interessara sempre, cioè la difficoltà di scegliere le parole adeguate per raccontare la fine di un amore. La sintassi dell'addio è il tema del libro ed è anche l'occasione in cui questa coppia, che è composta da uno scrittore e un'oncologa, devono affrontare questo evento e scontenti del lavoro dei rispettivi avvocati decidono di fare da sé e di scriversi da sé questo ricorso congiunto. Solo che poi cambiando il luogo in cui vanno via di casa e si scelgono un posto dove andare a scrivere, dove andare a confrontarsi un po' a raccontarsi la storia del loro amore finito, si troveranno a confrontarsi con un altro tema che a me interessa molto, che è quello del tradimento dell'imparse. Quindi il libro prende una deviazione che io sinceramente nello scrivere non mi aspettavo, però a un certo punto ho notato che erano due sentieri che si univano e convergevano verso un finale unico.